Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 ci sono 5 km di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma, sulla FIPILI code per un incidente in uscita allo svincolo di Cascina provenendo da Pisa e rallentamenti tra Firenze Scandicci e l'allacciamento per l'A1 in direzione Firenze. Sulla statale un Aurelia tratto chiuso per lavori tra Stagno e Quercanella in direzione Roma, chiusi di svincoli di Porta a Terra e Livorno Centro. La viabilità cittadina a Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali. Per i lavori della tramvia stanotte sarà chiusa dalle 21 fino alle 5 via Jacopo da Diaceto, nel tratto di confluenza con via Alamanni. Borsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!